Voglio lanciare una proposta dagli schermi di FanoTV, un confronto sul tema del Green Pass fra il sottoscritto che è dubbioso, scettico su questa disposizione di legge e un sindaco come Matteo Ricci che invece è un forte sostenitore del Green Pass e dell'obbligo vaccinale. Quindi io credo che in un momento di confusione come questo potrebbe essere molto utile per i cittadini avere un confronto televisivo e sentire le varie e diverse posizioni su questa scelta così importante per le vite di tutti noi. Quindi Matteo Ricci facciamo questo confronto in modo pacato, in modo sereno, in modo costruttivo. FanoTV è il luogo ideale dove poter avere questo scambio, questo dibattito e quindi mi aspetto che tu Matteo accetterai questa mia proposta.